Ciao a tutti ragazzi, io sono Corridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Talisman, le lande montuose, l'ultima espansione uscita presso la Giochi Uniti, ovviamente tradotta in italiano, e il Mietitore, che questa è una vera e propria espansione. E questo qui è un fillerino che aggiunge dei nuovi personaggi giocanti, sia nella scatola dell'espansione che in quest'altra, in più inserisce il tristo Mietitore che mette in campo la pedina della morte. Nel vero e proprio senso che inserisce delle regole particolari, in più ci sarà questa morte che verrà spostata dai giocatori, tanto ora poi ve lo spiego, e girerà per il campo di battaglia, per la mappa di Talisman, e quando la incontrerete potrà fare qualcosa o di positivo o di negativa a seconda del tiro di dado che farete. Ovviamente corgo l'occasione per ringraziare di cuore la Giochi Uniti, grazie ragazzi, è sempre un onore, un piacere collaborare con voi, grazie per avermi offerto questo ricopio per la recensione, ragazzi, abbiamo festeggiato un anno anche noi, quindi grazie veramente e immensamente. Comunque ve ne parlo a breve, e ora poi vi faccio vedere perché c'è anche questo, ovviamente, dopo la sigla. Talisman è un gioco degli anni 80-90, ed è un gioco che ci è rimasto tanto nel cuore perché viene fuori dal periodo d'oro, mettiamolo così, della nascita dei giochi da tavolo più belli che si può anche andare a prendere, Hero Quest e Space Crusade Star Quest. Ma rimanendo prettamente sul fantasy, fu un gioco della Games Workshop che prese praticamente l'idea principale del gioco dell'oca, buttandola, appunto, catapultandola in un mondo fantasy. Infatti è bello perché anche questa nuova edizione, che dovrebbe essere la terza, la quarta, qualcosa del genere, rispecchia fedelmente quegli anni lì del fantasy come era concepita al tempo. Classico, il nano per forza dove essere il guerriero con l'ascia e lo scudo, per forza. Il barbaro per forza dove essere il barbaro nudo col perizoma, magari il leopardato, e con la fofata in testa, mi si dice alle vonde, la pettinata, molto glam, anni 80, dovevano essere un po' i canoni dell'epoca. Ed è molto bello perché giocando a questo gioco ci ributta, appunto, indietro fino a quegli anni lì, che secondo me sono gli anni più belli del fantasy perché poi, come tutte le cose, è una cosa magari brutta. L'ampli un pochino diventa carina, l'ampli ancora un po' diventa bella, al momento che è bella, fermati. No, ci devono mettere tanto salse, salse, come qualsiasi piatto. Quando lo vai a infarci troppo, poi alla fin fine perde il gusto principale e si va a perdere anche il piacere di mangiarlo, giustamente. E qui davanti, gioco base ovviamente, perché l'espansione che è l'ultima uscita, che inserisce un'altra parte del tavolo più il mietitore, non può essere giocata senza il gioco base. Ovviamente per quanto l'espansione ha delle nuove carte da aggiungere nel gioco base, delle nuove carte da aggiungere nel gioco base, anche il tristo mietitore, però hanno anche carte loro, quindi sono dei mazzi che non vanno mescolati, nel caso soprattutto delle lande montuose, a parte le carte del mietitore che sono sue. Però nelle lande montuose ci sono delle carte che andranno pescate tipo reliquie o giocate solo quando sarete appunto nelle lande montuose. E vi faccio vedere un pochino come funziona, ma prima l'unboxing. Scatola del gioco, come sempre, è della stessa dimensione della scatola base. I disegni e i colori sono bellissimi, sembra un disegno di Larry Elmore veramente spettacolare. E anche il tipo di disegno appunto, e i personaggi ci rimandano un po' a quel fantasy degli anni 80-90, perché il ladro era visto vestito come una specie di zorro, un mariolo o qualcosa del genere. Oppure un folletto, che è uno degli altri personaggi giocanti. La Valkyrie era il classico personaggio con l'elmo, con le ali, un po' delle leggende non rene. Quindi si vede che anche proprio nello stile, qui sta qui un vampiro addirittura, nello stile o anche l'aquila di Guair del Signore degli Anelli, vedete, rimanda un po' a tutta quella cultura lì di quegli anni, che secondo me il fantasy più bello era veramente quello. Apriamo. Manuale di gioco dell'espansione, che vi dice soltanto cosa c'è all'interno, e ovviamente vi dà le regole per usare, vedete, il nuovo pezzo di tabellone da aggiungere alla mappa. Vi dà veramente qualche regoluccia in più, ma non ce n'è bisogno, perché le regole sono sempre quelle del gioco. Più che altro, ci fa vedere le regole per spostarsi dentro quel terreno. Tabellone di gioco, che ora poi vi faccio vedere aperto. schede dei personaggi nuovi, in più un boss da affronteggiare, perché le espansioni inseriscono anche dei veri e propri boss, che è il re delle aquile. Un bel mazzone di carte, ovviamente carte oggetto, carte missione che potete trovare, incontri e quant'altro. E le miniature qua dentro dei nuovi personaggi, che vi ho fatto vedere che sono quelli raffigurati sulla scatola. Scatolina piccolina del mietitore, anche qui il disegno veramente spettacolare, mi guardiamo lì poi della morte con la farce, cosa fai? Non ce la metti nel gioco. Componenti, qui è il regolamentino, anche qui con regolette della morte, come funziona una cosa o un'altra, che per la maggior parte è una pedina che sta sul campo di battaglia, che sta sulla mappa di talisman, e viene spostata ogni volta che un giocatore tira un 1 sul dado per muoversi. Quindi fa il suo movimento, poi dopo aver tirato l'1 sul dado, ritira un altro dado e quello è il numero di caselle di cui si muoverà la morte. Morte mossa, ovviamente, dal giocatore attuale che ha tirato l'1. Quindi la potrà muovere in senso orario o anti-orario, come se muovesse se stesso, e quando la morte entra nella casella di un altro personaggio, non quando il personaggio entra nella casella della morte, ma solo quando la morte fa l'ingresso nella casella di un personaggio, ci sono queste cose qui che possono succedere. Quindi c'è da fare un tiro di dado per vedere che cosa succederà con la morte. Può essere una cosa positiva o negativa, non per forza è negativa. Nuovi personaggi, anche qui ci sono tre nuovi personaggi, più ovviamente c'è anche la miniatura della morte con la falce, qua giù, che è veramente bellina. E poi nuovi mazzi di carte, ovviamente nuovi mostri, addirittura la benshi viene inserita, e nuovi mazzi di carte che guardano sempre equipaggiamenti e quant'altro. Questi sono i sei personaggi che vengono inseriti da questa espansione, mentre queste sono delle carte finale, che è un'aggiunta spettacolare al gioco, le potete usare come no, è tutta opzionale, potete usare anche tutte le espansioni delle lande montuose, e queste no. Praticamente quando arrivate nella corona del potere, dovete giocare un finale. Rispetto che andare lì, vi ricordate, andate nella corona del potere, e iniziate a togliere vita a tutti gli altri giocatori, fino a che non muoiano, no, invece potete mettere direttamente una battaglia finale, da combattere contro uno dei vari boss che ci sono, dei terri delle aquile, soprattutto per la zona, lo scontro che c'è qua giù nelle lande montuose, e dovete risolvere quello che c'è scritto. Comunque, i nuovi personaggi sono, l'alchimista, che è questo qui, la fuorilegge, il folletto, la vampira, o meglio, vabbè, vampiressa, ci hanno scritto, la valchiria, e il montanaro. Questi sono i nuovi personaggi che potete utilizzare, e ognuno, ovviamente, ha le sue schede, con il suo valore di forza, il suo valore di astuzia, e le varie abilità. Per entrare in questa nuova zona, che sono le lande montuose, si entra dalla zona dei picchi, quindi quando arrivate nella zona dei picchi, potete proseguire il vostro movimento e andare avanti, quindi ricordatevi sempre, tanto lo vedete, dove è attaccata la casella, che è questa, l'entrata, si entra dalla zona dei picchi, ovviamente se vi fermate nei picchi, dovete fare, tirare il dado per l'azione che c'è, se no, se il vostro movimento basta, potete entrare. in questa zona qui ci si può muovere come nel tabellone normale, quindi nel caso io sia qui, e mi venga un risultato di tre, posso fare uno, due, e tre, altrimenti, se io non volessi più fare questa zona qui, volessi uscirne, o arrivo fino a un fondo, qua giù, e vado a combattere con il re delle aquile, nel nido delle aquile, però è uno scontro abbastanza forte, insomma, vedete, ha delle caratteristiche alte, o se no, tornando sul personaggio, posso dire, ok, ho fatto quattro, uno, due, tre, e quattro, quindi dai picchi potete entrare e uscire, l'unica cosa, se volete seguire il percorso qua dentro, ci sono le frecce che vi guidano, quindi, la strada da fare è questa qui, arrivare fino qua giù, e poi vedete che c'è la freccia che va giù, quindi, continuare di qua, andare fino qua giù, e poi andare oltre, in questa zona qui, delle lande montuose, dovete usare, ovviamente anche le carte normali, però soprattutto le carte delle lande montuose, quindi per uscire dalle lande montuose, o combattete il boss alla fine, o se non ve la sentite, non vi interessa, non siete abbastanza forti, però sconfiggendo il boss, prendete delle reliquie assurde, prendete e riuscite direttamente dai picchi, ricordatevi che potete giocare tutte le carte che volete qua dentro, però ci sono alcune carte col simbolo delle lande montuose, che potete giocare e pescare solo quando siete qua dentro, quindi il mazzo delle carte delle lande montuose, tenetelo sempre accanto appunto al quarto di tavolo delle lande montuose. Quando si arriva a fare il combattimento col signore delle aquile, l'eroe, o gli eroi che lo vanno a sconfiggere, hanno la possibilità, come azione ma tanto gestita sotto, di spostarsi nella mappa principale di talisman, esterna o centrale, non quella interna, quindi possono scegliere un qualsiasi punto, in quella esterna, o in quella centrale, dove spostarsi, che praticamente l'aquila dopo aver sconfitto il suo boss li riporta qua. Però non è morto il boss, il prossimo giocatore che volesse riaffrontare le lande montuose è sconfitto, potrebbe tornare qui e ricombatterlo, quindi il combattimento col boss si può fare più di una volta. E poi c'è il tristo metitore, qui la morte, che inizia dal suo punto, c'è scritto dove inizia sulla sua carta, e ha questa carta qui, evento accanto, lui praticamente, quando un giocatore deve fare il suo movimento, e tira un 1, quindi fa il suo movimento e si muove, il giocatore attuale tirando un 1 dovrà tirare anche un dado per lui, e lo muove come se fosse un personaggio, se fa 1 lo muove qui o qui, nel caso invece facesse 5-6 lo muove insomma da un'altra parte. Sempre con la regola, ricordatevi sempre assolutamente che lui può passare dove vuole, può passare dalla sentinella, e non attiva mai la casella su cui si trova, perché non è un personaggio, anche se lo muovete come tale, è comunque la morte, e non quando voi entrate nella sua casella non succede niente, ma quando lui entra o nella vostra casella, quindi siete voi a muoverlo, decidete voi, o nella casella di un altro personaggio, dovete tirare un dado da 6 e vedere cosa succede, e non sempre una cosa negativa, quindi potrebbe anche avere un senso provare a muoverselo nella propria casella. E questa qui è la carta. Ragazzi, bene o male, le regole aggiunte a talisman sono queste, sembrano poche, a livello di regole sono 0, non poche, meglio così, però inseriscono uno sbotto di carte e di varianti veramente disumano. Ragazzi, in conclusione, e anche qui se non erro, dovrebbe essere l'ultima espansione, quindi di questa quarta edizione, ed è veramente una figata, perché tutte quante le espansioni di talisman inseriscono, avete visto, c'è il tablino di gioco, ve l'ho fatto vedere, e ci sono questi quattro angoli, che poi sono gli angoli appunto delle nuove mappe, ed è molto interessante il gioco, perché da una parte ti fa perdere un po' di tempo, perché lo sapete, dovete arrivare nella corona del potere per vincere. Da una parte ti fa perdere un po' di tempo, uno dice perché invece di andare avanti e rasciare, che non puoi rasciare perché muori, non sei abbastanza forte, non vado nelle lande montuose, perché andando nelle lande montuose, potresti prendere nuove reliquie, nuovi oggetti, nuove cose, che quando poi torni nella mappa normale, e magari entri nel territorio interno, sei talmente forte che pialli tutto, quindi ha un senso effettivamente andarci, più ovviamente del piacere della scoperta e dell'esplorazione, oppure semplicemente perché lo potete tranquillamente, fare, potete anche non giocare con le lande montuose, ovvero non mettere la mappa delle lande montuose, il quarto, però potete direttamente prendere le carte nuove che ci sono dentro e metterle nel gioco, quello che potete fare, non è che per forza solo ci sono alcune carte, con il simbolo che devono essere usate per forza nelle lande montuose, e la stessa cosa il mettitore, che è puramente opzionale, ma come tutte le cose di talisman, secondo me è interessante perché è un po' una partita a scacchi con la morte, come nel film famoso che abbiamo visto, quindi è veramente una figata, non sai mai cosa ti capita e poi ovviamente le pedine piccoline, però sono sempre di alta qualità e a me mi piace andare a morire, è un'aggiunta opzionale, sono aggiunte opzionali al gioco basi, però secondo me sono aggiunte anche da una parte, se sei veramente un fan come me, e io ve l'ho sempre detto, i miei giochi fantasy preferiti sono due, Hero Quest e Talisman, allo stesso livello, secondo me si trasforma anche in una cosa abbastanza essenziale, infatti le espansioni di Talisman le voglio assolutamente tutte, per ora queste due qui, quindi se le devo dare un voto, sarebbe un voto doppio, perché vi vorrei dire un voto per come lo vedo oggettivamente tutto quanto, e un altro voto invece per i fan, però cercando di racchiuderlo, io gli do un 9 su 10, perché è un'aggiunta bella, che porta veramente tanta roba nuova, forse anche soltanto di carte, porta nuovi personaggi, quindi nuove combinazioni, allunga la longevità di un gioco già di per sé particolarmente lungo, ed è veramente interessante e una figata, poter esplorare un'altra zona opzionalmente, perché anche se questo lo mettete in campo, non dovete andare nelle lande montuose, però comunque andando laggiù, avete la possibilità di trovare oggetti, che nella mappa base non solo vi potenziate, ma nel gioco base non li trovate, quindi se volete magari un'accetta, un'arma particolare, la trovate soltanto qui, magica ovviamente incantata, e la stessa cosa il mettitore, secondo me aggiunge uno spessore di gioco assurdo, quindi 9 su 10 meritatissimo, vi ricordo che se lo volete acquistare, primo link in descrizione, e sovraimpressione da Borgame Discount, ha i migliori prezzi sul mercato, e in più la maggior parte dei giochi, hanno la spedizione immediata, ordinate e parte, e si possono pagare anche a rate, senza finanziamento, io voglio ringraziare di cuore la Giochi Uniti, per avermi offerto, espansione delle lande montuose, e il tristo mettitore, grazie veramente di cuore, è un onore collaborare con voi come sempre, sempre ovviamente disponibile a disposizione, primo link in descrizione dove acquistarlo, più tutti quanti i nostri social a seguire, iscrivetevi perché sono importanti, ciao ragazzi alla prossima, grazie mille, grazie a tutti, Grazie a tutti